Lo sappiamo, la tua carta PagoBancomat è nel tuo portafogli da sempre, nel duo e in quello di milioni di italiani. Ma se potessi lasciare a casa il portafogli? Oggi puoi farlo! La tua carta PagoBancomat diventa digitale su Samsung Pay e puoi pagare con lo smartphone. Avrai tutta la sicurezza, la velocità e la semplicità che da sempre Bancomat ti garantisce. Perché da sempre innovarsi paga.